Giovedì prossimo, 24 gennaio, si terrà a Roma un importante convegno sul tema della crisi dell'immobiliare e in generale dell'edilizia, organizzato dalla Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari che associano circa 15.000 agenzie pari al 50% dell'intero settore. Ne parliamo con il presidente della FIAIP, Paolo Righi, a cui chiediamo subito quali sono le cifre salienti della crisi dell'immobiliare. In questi ultimi 4 anni la filiera dell'immobiliare nel suo insieme ha perso 500.000 posti di lavoro, le compravendite immobiliari dal 2006 ad oggi sono passate da 860.000 unità a poco meno di 500.000. È un momento veramente critico per il settore, naturalmente dell'economia mondiale nel suo insieme, ma quello che FIAIP vuole dire alla maggioranza dei cittadini è che sostanzialmente per il nostro Paese il settore immobiliare rappresenta il 20% del prodotto interno lordo. La pressione fiscale complessiva sugli immobili ha raggiunto oggi vette inavvicinabili. Siamo il Paese che ha la pressione fiscale più alta d'Europa. La necessità è quindi quella di cercare di abbassare nel complesso questa pressione fiscale, al di là delle semplici leggi. Faccio un esempio per tutti, l'Imu. L'Imu in se stessa è una tassa che è stata aggravata dal precedente aumento delle rendite catastali che ha comportato un aggravio di oltre il 60% della tassa. Il problema oggi è quello di normare il mondo della fiscalità immobiliare anche perché nel 2013 prenderà l'avvio ad esempio la Tares e una tassa che cuberà circa 2 miliardi di euro sulle tasche dei cittadini. Quindi non è più un problema di singola tassa o di nome che si danno alle singole tasse, ma è un carico fiscale ormai insopportabile per i proprietari immobiliari. Al convegno avete invitato anche esponenti delle forze politiche a cui sottoporrete una serie di proposte per il rilancio e il superamento della crisi dell'immobiliare. Ci può anticipare qualche proposta che farete ai politici? Noi in quella sede, oltre a confrontarci con i partiti e a manifestare quello che è il dissenso in generale sulla pressione fiscale troppo elevata e sulle politiche contro il settore immobiliare che sono state messe in atto nel tempo in questo Paese, vorremmo anche in fase propositiva, perché riteniamo che le associazioni debbano proporre e non dire esclusivamente no, presenteremo un manifesto per il rilancio del settore immobiliare in Italia. Quindi un invito a tutti a partecipare a questo grande momento di condivisione del settore immobiliare, alle forze politiche a partecipare a questa attività e a questo confronto, perché se riparte l'immobiliare riparte l'Italia.